salve ragazzi benvenuti nel mio canale oggi ragazzi come potete ben vedere siamo qui su farming simulator 19 nella splendida mappa italia ovviamente in compagnia del nostro buon collega steno84 che salutiamo buongiorno collega buongiorno buongiorno a tutti ragazzi buongiorno buonasera buongiorno 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 allora ragazzi siamo lasciati lo scorso episodio con la fine della semina a trifoglio e l'inizio invece della semina di girasoli e di carote off camera un po di robina io stavolta me la sono fatta ovvero che ho finito di seminare girasoli e carote e basta non c'è altro da fare in realtà e ho sistemato un pochettino la farm mi sono andato a ricaricare tutti i sacconi come vedete qua tutti i sacconi di fertilizzante qua tutti i sacconi di semi e qua tutti i sacconi di calceviva ho comprato alla fine anche l'attrezzino per smuovere i sacconi da una parte all'altra così almeno ce lo abbiamo non ho fatto altro basta queste sono le uniche cose che mi rimanevano da fare ho messo a posto tutte le attrezzature visto tutto bello organizzato adesso è un peccato usarlo adesso è proprio un peccato usarlo dentro dentro di me quando lo facevo dicevo ma che peccato adesso li dovremmo usare e vabbè è così i nostri 41 maialini ragazzi stanno che è una meraviglia non gli ho dato niente in realtà off camera perché non avevano in realtà bisogno di nulla o meglio avrebbero bisogno di tutto ma non abbiamo nulla da dargli in realtà gli servirebbe la paglia però voglio vedere se i liquami salgono ancora un bellino vabbè preghiamo le forze della natura che ci dia un ascolto dobbiamo mandare avanti il tempo veloce e far crescere sto trifoglio in teoria in estate dovrebbe essere pronto perché mi pare dal secondo o dal terzo giorno di estate vediamo sì dal in realtà dal terzo giorno di primavera già si può iniziare a raccogliere però io credo dati gli stadi in cui siamo che non prima del primo bar secondo giorno di estate ok raga allora trifoglio pronto perché abbiamo mandato praticamente raga avanti fino al primo giorno di autunno e nel contempo sono cresciuti anche le carote e i girassoli perché abbiamo pensato dato che il periodo di raccolta del trifoglio è fino ai primi di autunno abbiamo detto ma andiamo avanti fino ai primi di autunno sperando che effettivamente è cresciuto tutto meno male nel contempo però raga sono nati più di 100 maiali 140 maiali io non lo so siamo a 180 maiali 181 per la precisione perché quell'uno è sempre quel maialino nero diciamo quello superstite l'ultimo rimasto vabbè raga poi ce li vendiamo voglio però prima partire da tutto il resto allora partiamo immediatamente dal trifoglio perché voglio vedere come funziona sto razza di trifoglio ovviamente ci andiamo a prendere beh per forza di cose le falciatrici perché immagino servano le falciatrici per falciare sta roba qua io mi prendo questo qua il same con con quelle grosse tu invece ti prendi il il fiattino con quello piccolo e parti tu avanti io ti vengo dietro il collega adesso lui ci segue dietro per tagliare il pezzo in mezzo e qua ci stiamo praticamente falciando il nostro splendido trifoglio trifoglio fresco e aspetta che mi salvo il percorso così te lo te lo puoi usare vai come si come si falcia raga che meraviglia che meraviglia veramente e andiamo a fare anche le carote poi è sta puntata però prima voglio occuparmi del trifoglio che è la cosa più importante perché mi pare che il trifoglio per i per i nostri amici animali è il quello più importante no in realtà no è tutto importante perché con la questione season ogni qualsiasi cosa è importante va bene dai qua se la sta cavando che è una meraviglia raga io a questo punto dato che qua se la sta cavando allora abbiamo la sì la nostra splendida eccola qua trebietta purtroppo non abbiamo la lama dobbiamo ma per il momento credo che la noleggeremo perché non abbiamo tanti soldini penso che comunque un po di trifoglio ma sapete cosa faccio però perché abbiamo bisogno di soldi quindi prima di tutto io prima di fare qualsiasi altra cosa spostiamo la trebbia così io posso entrare col cassone mi vado a vendere un po di maiali raga perché sennò veramente troppo troppi pochi soldi abbiamo bisogno di soldi abbiamo bisogno di attrezzature per farlo ovviamente abbiamo bisogno di soldi quindi andiamo a venderci i porcellini quelli più fruttuosi quelli più grandi oramai ok noleggia raga sì ok e andiamo a prenderci un trattorino questo qua nella media non è proprio il massimo però non sto aspettare il prezzo massimo raga abbiamo bisogno di soldi abbiamo già 188 suini in tutto ciò in pochi minuti sono nati altri sette suini insomma ok quanti ne possiamo caricare buh non lo so non ho visto comunque siamo pieni ok partiamo con quelli più fruttuosi innanzitutto poi man mano scendiamo non vado a prendere proprio quelli piccoli piccoli però insomma e dove si venderanno i suini immagino al mercante di bestiame primo carico pronto adesso lui se ne va se lo porta e vediamo come come se la cava nel frattempo lui come sta andando meravigliosamente hai bisogno che ti sblocca la velocità no mi sembra sì stiamo guadagnando un po pochino sì vedo che dall'arancione dalla dall'arancione sì e niente ti noleggio poi anche già un ranghinatore perché dobbiamo ranghinare devo vendere se no non ce la facciamo anche perché abbiamo già anche il debito di 50 mila euro quindi spero che con questi animali con la vendita comunque anche di un po di trifoglio perché non tutto lo useremo ne teneremo da parte una bella quantità perché tutti sti animali comunque hanno bisogno anche di carote anche di girasoli ma penso che ne teniamo metà lo teniamo metà lo vendiamo di tutte le colture allora eccoci arrivati ragallo splendido poi piano è allo splendido mercante di bestiame allora apri finestra e no dobbiamo muovere questi a 20 20 20 la volta riusciamo a caricarne perfetto e quanto guadagniamo 5000 euro ogni 20 maiali con il prezzo massimo attualmente del maiale questo lo riportiamo indietro la cosa più noiosa veramente il viaggio perché poi per il resto è un attimo va bene dai li sta andando qui praticamente abbiamo finito appena finiamo qua a questo punto noleggiamo anche a vabbè iniziamo a noleggiare a questo punto la lama tanto credo che io lo metto intanto esatto vado a noleggermi la lama raga questa cressoni la lascio qua che purtroppo i girasoli non li può trebbiare sì ti prendo aranghinatore poi scegliamo sto sta lama raga perché non sto capendo i tipi di aggancio che devo inserirli boh costino leggi già ci siamo mangiati tutto il resto del budget raga speriamo che con questa con queste raccolte riesco a perlomeno tirar su un due soldini perché sennò veramente potrebbe essere un bel problema questa qui è new holland quindi l'attacco dovrebbe essere quello quello suo ok io comincio a aranghinare se vuoi poi far salire sul same sì 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 arrivo tu intanto fallo aranghinare che poi io appena faccio vedere allora innanzitutto dispieghiamo la lama creo il percorso raga così intanto la trebbia si arrangia da sola perché non ho tempo di star dietro alla trebbia va bene e qui va a posto andiamo a vedere il nostro splendido operaio come se la sta cavando che sta facendo ok cosa faccio io comincio la raccolta non ho eh ma direi di sì va però per iniziare la raccolta ci serve a questo ma perché l'ho venduto il cassone da carico a saperlo guarda me lo sarei tenuto vabbè dai qua se la sta cavando raga prima di poter andare fermi 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 lo sapevo che qua dava il problema perché qua c'è sempre sta problematica qui del dell'alberelli qui meglio che me lo faccio io sta passata va ok qui se la sta cavando venire veramente benissimo in tutto andiamo a prendere a stai caricando te i maialozzi bravo carica allora i maialozzi scostando ok allora dammela a me lasciamela a me che vado a prendere mamma mia c'è talmente tanta roba da fare che non si capisce tempo no non si capisce cosa fare per primo perché non si capisce quale più importanza abbia all'incirca quante andane faremo veramente comunque ne vengono parecchie nonostante che ma ricrescerà il trifoglio sì ah bene bene allora probabilmente raga lasciamo ancora trifoglio sul 22 però mi dammi tutto adesso che vedo vabbè ho detto sì dammi tutto ma in teoria poi quando passa il tempo riparte con la fase di crescita dovrebbe essere come l'erba vabbè comunque lo teniamo da conto lo teniamo da conto facciamo come abbiamo detto perché effettivamente sto facendo una cosa un po troppo forse che non va fatta metà lo vendiamo contiamo le andane raga metà la vendiamo e metà la lasciamo per i maiali che mettete caso che veramente non ricresce più almeno anche se ne dubito perché le cose che di solito si falciano di solito ricrescono sempre quindi allora raga ok scarichiamo tutti i nostri maialini e qua ci becchiamo 6.000 euro o mamma che spavente ah l'annuncio l'annuncio che arriva al treno ah che spavento mi ha fatto prendere allora questo lo rimandiamo di nuovo a farm 7.000 euro credo che ci riusciamo a comprare un cassone da carico no a comprare a noleggiare raga per stavolta dobbiamo noleggiare tutto non ho proprio la possibilità di comprare niente ma in realtà l'oral costa solo 1.000 euro ti ho preso il cassone da carico eh non sarà proprio meraviglioso però insomma si 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 sto cercando di recuperare la trebbia ma ok allora il leli ha finito io direi che probabilmente poi tutta sta roba ce la restituiamo niente allora vado io va inizio a raccogliere un po di trifoglio vai olè trifoglio fresco meraviglioso raga meraviglioso adesso lui si raccoglie il trifoglio meglio che ce lo salviamo vasto percorso scriviamo carico poi vabbè se dovesse rimanere qualche pezzettino chi se ne frega ce lo andiamo a prendere poi noi manualmente ma comunque devo dire sta raccogliendo nonostante ciò sta raccogliendo veramente bene bene davvero penso che il trifoglio fresco sia l'equivalente del mais senza season la capacità della mangiatoia al massimo per due giorni boh raga stiamo riscontrando un pelino di problemi perché non ci fa scaricare secondo me penso ragazzi ha dovuto dal fatto che stiamo vendendo i maiali quindi rileva come se boh in un qualche modo ci fosse troppo maiale e troppo scusate troppo cibo in eccesso per i maiali e quindi ci dice che la mangiatoia è piena proverò eventualmente tra un po di tempo di nuovo a rifare la questione rimettere la roba lì il problema è che dove mi metto adesso sto trifoglio che abbiamo raccolto mandare avanti il tempo un attimo e ho provato ho provato erano le due ho provato ma non ok l'unico problema è come me lo scarico che in questi silo non si può scaricare e perché se no raga o mettiamo giù un piccolo silo da qualche parte ma non so che altro fare quindi per forza di cose ci tocca fare così ok raga direi che non è stata proprio la scelta veramente ok c'è anche un albero dentro il silo ma no problem non è stata proprio la scelta più adeguata perché non mi piaceva come idea ma attualmente non posso fare altrimenti quindi preferisco avere una parte della farm un pelino più brutta ma almeno so che possiamo contenere quello che vogliamo insomma ok ho creato l'ingresso e l'uscita così almeno l'ingresso l'uscita è per di qui l'ingresso è per di là e qua possiamo stoccare quello che vogliamo allora se scendi un secondino ti ti scarico sti maialetti così almeno siamo a posto eccolo qua bastava che schiacciavi r ma bastava solo un attimo ok e farm mandiamolo a ehi ce la facciamo farm ok 8000 euro ce le siamo fatti raga abbiamo fatto un bel po di prestitino a questo ok sì questo qua che più o meno alla fine con sti mattoni rossi si intona veramente un pochettino anche alla alla farm quindi alla fine dai non mi fare non mi pare di aver fatto proprio un pessimo lavoro dai raga fatemi sapere voi cosa ne pensate poi eventualmente oh sì possiamo scaricarlo qua perfetto ok bom ripartiamo di qui raga e siamo a posto restituiamo tutti gli oggetti noleggiati perché tanto non ce ne facciamo più nulla questo non non te lo da vero no vedi la capacità massima delle mangiatoie no no perché si vede raga che stiamo vendendo e quindi con la vendita dei maiali che diminuiscono il fabbisogno anche di dei pochi restanti diminuisce quindi diciamo che praticamente gli avanza del cibo quindi non hanno bisogno di altro cibo per il momento ok conferma adesso ne abbiamo 110 quindi ancora un altro paio di carichi direi che ce li possiamo tranquillamente fare vai perfetto non possiamo attualmente restituire il prestito però vabbè con calma poi lo restituiremo qui la roba è veramente sporca è meglio che mi compro uno di quei attrezzini per pulire le mangiatoie boh ok questa è andata allora raga dato che sul campo a girasoli abbiamo terminato abbiamo raccolto tutto alla fine quanto hai raccolto più o meno 13.669 litri solo così poco si non era non è venuto fuori granché comunque ah peccato eppure quanto abbiamo raccolto beh abbiamo raccolto comunque bene sul campo 13 eh ok muoviamo ancora questi 20 maialozzi vai abbiamo preso altri 2000 euro mamma mia raga e vediamo un po cosa abbiamo da poter vendere perché tanto attualmente i maiali non hanno bisogno di granché di roba vediamo il trifoglio quanto vale più o meno siamo sui 270 al biogas se non si può fare anche l'insilato del trifoglio però per fare l'insilato del trifoglio abbiamo bisogno praticamente di questo punto di questo qua il c questo pezzettino di campo qua che costa 50 mila euro no 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 assolutamente no no vendiamo il trifoglio così com'è lo vendiamo al biogas raga ok ci siamo fatti un bel carico di trifoglio fresco e adesso lo portiamo abbiamo detta scarico scarico biogas eccolo qua è il punto adatto a noi perfetto andiamoglielo a portare raga e speriamo di farci su un altro po di soldini perché sì che vabbè li recuperiamo a mezzanotte però vabbè intanto iniziamo a fare un po di roba ecco questo era il punto che vi dicevo che mi serviva perché qua c'è il bunker qui ci sarebbe poi anche un altro capannetto questo punto ci servirà prima o poi se vogliamo fare insilato è quindi detto ciò per quanto riguarda questo campo raga me lo lavorerò io off camera e almeno fare le lavorazioni pre semina tanto almeno almeno non ve le dovete subire nel prossimo episodio perché voglio ripartire di nuovo subito con la semina il prima possibile raga perché abbiamo bisogno di troppi soldi veramente sì esatto mi fa scaricare allora noi scarichiamo non so quanto sia la capacità massima penso che anche qui essendo che il biogas non è proprio grandissimo penso sia sui 50 anzi anche meno 25 20 a no 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 sto dicendo una cavolata sono io che ho schiacciato per sbaglio forse ok adesso questi se li gestisce così poi iniziamo a prendere anche un po di digestato da tutta sta roba qua è che non è comunque una cattiva idea una cattiva idea mi devo andare a creare il percorso per quel cavolo di silo nuovo che abbiamo messo giù e quindi vado a crearmelo niente raga dai siamo arrivati veramente già a un sacco di ore di gameplay e purtroppo con questa problematica del diciamo del dei soldi che mancano le attrezzature che sono scarse non abbiamo tante attrezzature le lavorazioni importanti non sono riuscito a fare granché speravo in questo episodio di riuscire a finire almeno la trebbiatura di tutti i campi invece non abbiamo neanche iniziato la trebbiatura delle carote anzi la raccolta delle carote che però faremo nel prossimo episodio off camera mi andrò a finire se non abbiamo finito la raccolta del trifoglio mi vado a vendere gli ultimi animali rimanenti per arrivare a un totale dentro la stalla di 50 maiali quindi una volta che poi arriverò a 50 maiali stopperò la vendita e vado a vendere ancora un paio di carichi di di trifoglio così almeno poi nella prossima puntata vediamo quanti soldi siamo riusciti a tirar su ed eventualmente noleggiarci tutti i macchinari per la raccolta detto ciò raga io vi ricordo in descrizione link utili link delle donazioni link per comprare tanti bei giochi scontati ovvero instant gaming e link di partner giants se volete supportare il canale andate a comprare il gioco dal mio link e anche ovviamente il link diretto del canale del buon collega mi raccomando andatevi ad iscrivere grazie massi figuri detto ciò raga io vi mando un grosso saluto un grosso saluto al collega e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao ciao